Si terrà domani mattina l'udienza di convalida del fermo di Taolant Malai, il 45enne panettiere albanese accusato di aver ucciso nella notte tra sabato e domenica a Torre Maggiore la figlia Jessica, di 16 anni, e Massimo De Santis, di 51, l'uomo che riteneva essere il presunto amante della moglie. L'indagato in carcere da domenica ha tentato di accoltellare anche quest'ultima, Tefta, 39 anni, anche lei di origine albanese, colpendola con almeno sei fendenti. La donna è ricoverata, in proniosi riservata, le sue condizioni di salute non permettono ancora di essere ascoltate dagli inquirenti. Il colloquio con i magistrati avverrà non prima di venerdì prossimo. Intanto per giovedì mattina è stata programmata anche l'autopsia sui corpi delle due vittime. La sedicenne, da una prima ispezione, sarebbe stata colpita almeno da una decina di coltellate, venti invece, quelle inferte a Massimo De Santis da parte di Malai. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato trovato nell'auto del 45enne, poiché, a dire dello stesso indagato, aveva intenzione di fuggire. In quei concitati momenti di furia omicida, l'uomo avrebbe risparmiato solo il suo figlio letto di 5 anni che si era nascosto dietro un divano. Il piccolo è stato poi affidato ai parenti, mentre emergono ulteriori novità sul video girato dallo stesso 45enne dopo il duplice omicidio. L'ho fatto così, non c'è un motivo particolare, avrebbe spiegato l'uomo ascoltato dal PM che coordina le indagini condotte poi dai carabinieri. Il video è stato girato ad un amico, ad Imola, che ha poi allertato immediatamente i militari.